Una campagna elettorale entusiasmante, abbiamo presentato la lista due settimane fa e abbiamo fatto il giro di tutte le frazioni della nostra città e c'è tanto entusiasmo intorno a Pergola nel cuore. Pergola nel cuore è un progetto che nasce oltre 15 anni fa e ha già amministrato Pergola per 10 anni, dal 2009 al 2019. Oggi vogliamo far ripartire Pergola da quel progetto, soprattutto per quanto riguarda la riqualificazione della città in tutte le sue zone e gli eventi, eventi che portano economia alla città, devono portare economia alla città, eventi come la Fiera Nazionale del Tartufo che nei due mandati di amministrazione di Pergola nel cuore hanno creato un'economia per tutto il compensore, tutto il territorio anche oltre Pergola. Questo è fondamentale, lo facciamo con una squadra forte, una squadra competente, una squadra capace di affrontare questa importante sfida. Ognuno di loro infatti ha un ruolo ben definito da chi va dallo sport, al sociale, alla scuola, all'imprenditoria. E questa è la ricetta fondamentale per far ripartire Pergola. Pergola è anche uno di quei comuni che in questo quinquenni è stato toccato dall'evento alluvionale. C'è stata una ripartenza, secondo il vostro punto di vista, una ripartenza adeguata a quelle che erano le prospettive che ci si potevano attendere? Purtroppo no. Il governo ha stanziato molti fondi, questi fondi non sono stati messi a terra. Pergola è stata colpita dall'alluvione, soprattutto nel quartiere delle Tinte, un quartiere storico bellissimo che riguarda il centro storico della città e lì è rimasto tutto ancora com'è. Questi fondi non sono stati messi a terra, c'è bisogno di rivedere il ponte, ci sono molte case che hanno delle difficoltà, non sono ancora agibili, quindi c'è bisogno di mettere a terra quei fondi che il governo e le regioni hanno stanziato ma che ancora purtroppo non sono stati utilizzati.